salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi sul sito sl parts abbiamo comprato altri accessori per la nostra macchina in questo caso parliamo di un audi a4 a8k come già avete visto molte volte nei miei video in più questo accessorio qua va bene anche per altre audi e adesso vi farò vedere quello che abbiamo comprato nella confezione dello scatolo apriamo ho acquistato dei terminali gli scherzi terminali della s line tutte e due la doppia sono i tipici termini a quelli quali i tipici terminali che vediamo montati dietro le nostre macchine sono dei terminali blue and play cioè non c'è bisogno di installazione diciamo fatto da un elettrauto un meccanico o un qualcun altro che opera nel settore del dei ricambi oppure della monza nostra macchina basta andare lì inserirlo tramite queste ferrettini sono all'interno va a incastrarsi all'interno della nostra marmitta e poi scegliere noi diciamo lo spazio l'inclinazione e un po tutto come volerla montare riponiamo tutto nello scatola e adesso vi faccio vedere nello specifico dove sono andato a vedere questi accessori per chi già mi seguito un po conosce bene il sito SL parts dove io acquisto molti dei miei accessori e nello specifico adesso vi faccio vedere quello che abbiamo appena acquistato andiamo in seleziona auto andiamo in audi volendo possiamo scegliere anche altri accessori per le nostre macchine selezioniamo audi andiamo sulla mia macchina ma tranquillamente potete andare anche su un qualsiasi altra macchina che i ricambi e gli accessori sono per tutte le macchine selezioniamo A4 ecco qua terminali di scarico selezioniamo A4 ecco qua e questi sono i terminali questo qua è l'effetto finale che avviene alla nostra macchina questo qua invece è lo scarico originale noi che andiamo a e poi andiamo a innestare lo scarico questo qua all'interno del nostro scarico e dopo l'effetto finale è quello che ho fatto vedere nella foto precedente è questo qua sono terminali in acciaio in acciaio in acciaio su cromati ecco il срав erupato e cuore premio diciamo che facilità l'azione vedete ecco qua vi fa vedere proprio come è originale e come vuoi l'effetto finale costano 27 euro e 90 la spedizione non si paga il prodotto arriva in un solo giorno e all'interno stesso della selezione dello scarico vedete tutte le descrizioni per quanto riguarda la lunghezza e il diametro o tutto ciò che vi serve per la vostra macchina per sapere informazioni per la vostra macchina in più per chi volesse acquistare degli accessori dei ricambi o delle luci qualsiasi cosa per la vostra macchina sul sito slparts nella descrizione del video vi metterò un codice sconto il codice sconto è antimo VAG ad ogni modo dopo in basso alla descrizione vi metterò questo codice sconto ok sembra avervi detto tutto scendiamo e andiamo a montare venite con me eccoci qua ragazzi per quanto riguarda il montaggio dei terminali di scarico dovete avere lo scarico tipo come ce l'ho io adesso vedete ok adesso vi farò vedere come si installano i terminali per installare i terminali cromatici come già vi ho fatto vedere sopra abbiamo queste linguette qua vedete tutti i quattro lati che una volta messo all'interno ecco qua basta andarli a forzare e così in modo da che si bloccato bloccheranno all'interno del terminale stesso nostro il diametro è lo stesso vedere deve essere solo forzato per l'innesto e l'installazione del terminale prendiamo la stessa forma e me lo mettiamo uguale come se fosse originale proviamo ecco qua è uno e anche l'altro è lo stesso verso vediamo che non è preciso andiamo a girarlo laddove fosse posto e andiamo a mettere lo stesso a stessa maniera questo qua è l'effetto finale vi posso garantire un bel effetto anche a vedere che ve ne pare e anche visto da profilo uno sporce tantissimo anzi proprio se fosse originale ok ragazzi come sempre se non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere sempre attivi sui miei nuovi video e laddove vi piace anche questo video mettete un mi piace e condividete il video ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video ciao